Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Oggi potrei dare il benvenuto al mercato della paura perché tratteremo la presentazione di un libro che è stato appena dato per i tipi della libreria Salvemini, un libro che ci ricorda una storia che nessuno di noi ha dimenticato, la storia della gestione pandemica del Covid-19. Ne parliamo con Umberto Mendola, timinogolo forense che per una volta, forse non è la prima volta, veste panni dello scrittore. Benvenuto Mendola. Perché questo libro è necessario? Facciamo vedere questa copertina, status criminale, analisi criminale della gestione Covid-19, già il titolo vi dà un'idea del tipo di materiale scabroso ascoltante che può essere all'interno di queste pagine. Perché questo libro è necessario, Mendola? Buongiorno. Allora, questo libro ritengo che sia necessario perché aiuta a spiegare una serie di lati che sono rimasti ben nascosti da parte del sistema che ha costretto e spinto la popolazione all'angolo a scelte che non avrebbe mai voluto fare liberamente, come il ricatto, per esempio se non ti vaccini, ti sospendo dal lavoro. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, il libro è incentrato sulla pericolosità dei vaccini Covid-19, non prendiamoci in giro, non prendiamo in giro chi ci ascolta. È questo l'obiettivo che lei vuole raggiungere attraverso questo? No, 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 il libro è una spiegazione di quello che è successo, non giunge a conclusioni di nessun tipo perché il lavoro del criminologo è quello di raccogliere i dati, metterli in ordine e spiegare effettivamente con scienza e coscienza ciò che è successo. Il criminologo non è un investigatore, quindi non risale all'autore dei delitti, ma può aiutare gli investigatori a risalire all'autore dei delitti. Allora io le devo fare una domanda, anzi ne faccio due. C'è un crimine nella gestione pandemica del Covid-19 e se c'è un crimine c'è anche l'autore di questo delitto? Il crimine se c'è lo deve decidere l'autorità giudiziaria e a quanto stiamo vedendo l'autorità giudiziaria si sta incominciando a svegliare e sempre più accoglie i ricorsi delle persone che purtroppo sventuratamente si sono incorse in sospensioni o hanno perso il lavoro. Quindi in ogni caso per accogliere questi ricorsi significa che qualcosa è stato gestito male. Quindi qua siamo nella fase di quella che lo Stato ha utilizzato come prevenzione, quindi l'obbligo vaccinale, se non ti vaccini ti multo, se non ti vaccini non puoi andare a lavorare, se non ti vaccini vieni sospeso. Questa è la dimensione che lei ha trattato. E che oggi i magistrati stanno verificando? Io ho trattato in realtà tantissimi lati, per esempio il libro inizia con una raccolta di normative, di DPCM, i famosi DPCM di Conte, i decreti legge, i decreti legislativi, tutta una raccolta di decreti e decretini, scusatemi il gioco di parole, che sono stati fatti in un lasso di tempo così breve che neanche una legislatura in 5 anni riuscirebbe oggi a emettere tutti questi decreti. E questo è il primo dato anomalo che va agli occhi di un qualsiasi criminologo. Cosa è successo realmente? Ricordiamolo. Ricordiamo che la Camera e il Senato per un certo periodo di mesi non si è più riunito e queste decisioni, questi decreti, questi decreti legge, questi DPCM erano emessi da un uomo solo, un uomo solo alla guida di un intero paese, un qualcosa di antidemocratico, perché si era detto alla fine della Seconda Guerra Mondiale che l'accentramento di tutti i poteri dello Stato non doveva più avvenire in capo a un uomo solo. Quindi l'articolo 340 spiega la separazione dei poteri dello Stato. Questo purtroppo è avvenuto, è la prova provata che l'uomo non impara dalla storia, nonostante ovviamente gli errori che ci sono. Quindi la prima è una parte normativa, la seconda parte è l'esame tossicologico dell'unico scienziato che ha avuto la fortuna di analizzare tecnicamente, scientificamente uno dei vaccini, non voglio fare il nome perché nel libro, nel libro c'è scritto il professor Gabriele Segalla, però il nome del vaccino, il professor Segalla è un professore di fama internazionale, i vaccini quelli sono, come dire? Ce n'è uno in particolare che abbiamo trattato perché lui ha avuto la possibilità di analizzare. Io ho fatto Pfizer, mi devo preoccupare. C'è una domanda in riserva? No, deve dirmi, da qui non si esce se non dice sì o no, può dire forse. Legge il libro. Legge il libro. Va bene, ma detto questo, comunque anche il professor Montagnè aveva lanciato un allarme sui vaccini, tanti scienziati, il professore Fraiese, cioè non è che il professor Segalla si trova da solo ad aver analizzato i vaccini? No, è stato l'unico invece, è stato l'unico ad aver analizzato il vaccino ed è stato l'unico ad avere fatto un lavoro in review, che vorrei ricordare a tutti, che vuol dire avere il riconoscimento del proprio lavoro dalla comunità scientifica. Proprio oggi, giorno 25, noi non andiamo in diretta, quindi magari confondiamo le idee a chi ci segue, questa puntata sarà registrata verso la fine di ottobre, quindi diciamo alla fine di ottobre del 2023. Perfetto, proprio oggi è uscito in pre-review un secondo lavoro analitico del professor Gabriele Segalla, quindi di nuovo la comunità scientifica ha detto che le analisi del professore Segalla sono corrette, quindi il risultato, le conclusioni a cui è giunto il dottor Gabriele Segalla sono quelle riconosciute dalla comunità scientifica francese, inglese, tedesca, austriaca, ovunque, quindi se dice A, il risultato è A. Quindi oltre a esserci l'analisi tossicologica di quel vaccino all'interno di questo libro, abbiamo anche l'importante contributo di un avvocato, che è l'avvocato Antonietta Veneziano, che ha scritto un capitolo molto interessante dell'elemento soggettivo del reato del decidente e questo è… Me lo può spiegare questo concetto? Perché diciamo per chi non è massica a diritto potrebbe risultare particolarmente astruso. Certo, questo è un concetto che prima o poi i giudici in ambito penale saranno costretti a misurarsi con l'elemento soggettivo del reato del decidente. Come sapete, quando si muore per sospetto di Covid sono vietate le autopsie, i giudici al massimo autorizzano il congelamento dei tessuti a meno 80. Questo perché attualmente sono vietate, lasciamo stare la motivazione, ognuno trae le conclusioni che ritiene più opportune. Prima o poi però, così come abbiamo visto che la magistratura sta agendo in via civile, è logico pensare che anche quella penale dovrà dare delle risposte alla cittadinanza, quindi ai cittadini. E quindi a questo punto dovranno fare gli esami necroscopici di quei tessuti. E quindi tra ciò che è emerso dall'analisi di questo vaccino e la conferma dello studio che si potrà andare a fare con i tessuti necroscopici degli esami autopsici, si avrà la prova provata che effettivamente qualcuno ha sbagliato in qualcosa. E quindi l'elemento soggettivo del reato è capire se il decidente ha commesso quello che ha fatto con un dolo o senza dolo, cioè con coscienza e volontà, oppure se lo ha fatto in maniera colposa, cioè senza sapere effettivamente. A lei non sembra che sia anche necessario, vi faccio come dire la parte dell'avvocato del diavolo, necessario comunque attribuire anche una certa dose di processo necessitante, cioè era una vicenda alla quale nessuno era preparato, nessuno se l'aspettava, o meglio i pochi che se l'aspettavano è perché avevano letto la stampa a essere e si sapeva che c'era qualche cosa in preparazione. Cioè è una situazione che nessuno aveva visto. Non c'era una regola da seguire, quindi anche il premier Conte probabilmente si è trovato impreparato a gestire. Allora le rispondo in due modi, primo riesce bene a fare l'avvocato del diavolo, e la seconda in realtà le costano stando così, perché una casa farmaceutica di cui non voglio fare il nome aveva un bugiardino con una certa scritta nel 2019 dove c'era scritto che questi prodotti non erano per uso umano ed erano ad altissima cancerogicità. Quindi praticamente già nel 2019 avrebbero dovuto indurre il decidente ad una serie di cautele in realtà. Facciamo un po' di chiesa con le date, come fa il vaccino nel 2019 se la pandemia è scoperta nel 2020? Perché nel 2019 già una casa farmaceutica di cui non voglio fare il nome aveva brevettato una certa molecola ad RNA e RNA e quindi che è quella che è stata utilizzata nei cosiddetti vaccini, ma che vaccini non sono. Infatti ci hanno detto poi che le hanno chiamate e ora le chiamano terapie angeniche, non le chiamano più vaccini. Già, si chiamano terapie angeniche da oltre un anno, solo che volutamente il sistema le ha chiamate con un nome improprio. Io posso pure chiamare il cavallo mucca, ma non è che siccome chiamerò il cavallo mucca, il cavallo mungerà. Questo è normale, non si potrà mungere un cavallo, quindi è normale. Prima o poi la verità viene a galla. Quindi già nel 2019 eravamo in possesso di una parte, una parte di documentazione che effettivamente ci lasciava una serie di ombre, non una. Però mi perdoni, io ancora ritorno su questo dato del 2019 perché come facciamo ad essere in possesso di dati se non sapevamo ancora che stava per scoppiare la pandemia. Io l'ho già spiegato, hanno brevettato una molecola utilizzata in questi sieri geni. Però le fa il criminologo, cioè se qualcuno testa una molecola per un virus che non è diffuso, per curare dal punto di vista genico, dal punto di vista vaccinale, poco importa. Evidentemente questo lascia presupposto. La pandemia è voluta. Lascia presupposto, ma tutto è voluto. Perché dico, tutti i decreti parlano di un inizio e di una fine. La pandemia non si decide con dei termini di scadenza a livello politico. Quando finisce una pandemia, finisce perché magari non si registrano più infezioni, non perché lo dice un decreto del ministro. Questo mi sembra logico. Quindi se qualcuno ha brevettato qualcosa qualche anno prima, è evidente che già si stavano preparando il terreno. Questo mi pare abbastanza chiaro. Quindi secondo lei una pandemia è stata o è un fatto naturale o un fatto militare? Perché poi non è che ci possiamo girare attorno fino al... Io posso parlare di questa. Di naturale non c'è stato niente. Di naturale. Anche perché qualsiasi virus abbiano utilizzato non è un virus, anche detto dai media del sistema, non è un virus che esiste in natura. È un virus ingegnerizzato. Quindi significa che qualcuno ha alterato la natura in laboratorio. Ora lo stupisco io. Lei sai che conservava il virus del SARS-CoV-1 nei suoi laboratori militari? Io so anche molto di più di quello che in realtà dico. Allora, di SARS ne abbiamo avuto tante. E la SARS in sé per sé non è né grave perché non uccide un uomo, ma ce ne sono tantissime. Quella del 2006 in Egitto fece una strage. Era un livello di mortalità altissimo. L'abbiamo avuta nel 2016, l'abbiamo avuta nel 2018, non se ne è parlata. Perché? Perché non è letale. Di SARS ce ne sono tantissime. No, la prima SARS era molto letale, ma poco contagiosa. Perfetto. Però dico, orgi invece sono molto contagiosi e pochissimo letali. Perché man mano che il virus cambia, ovviamente, perde molto della sua virulenza e della sua letalità. Però diciamo, il virus è una forma di vita. Tutte le forme di vita hanno voglia di vivere. In realtà non è così. C'è differenza tra virus e batteri. Il batterio è un organismo vivo. Il virus è un organismo morto. È diverso. Quindi stiamo confondendo ovviamente una cosa per un'altra. Però anche il virus vuole vivere. Però il virus può essere modificato con certe culture e laboratori. Questa è la tesi del professor Montagnè. No, questa è la tesi di tutti. Il problema è che non si dovrebbero fare. Perché dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia, come tanti altri stati, hanno firmato dei accordi di non sviluppo. Prodiferazione batteriologica. Esatto. Esatto. E quindi teoricamente questi laboratori dovrebbero essere chiusi. Ma come tante altre cose, ciò che si firma nei vari protocolli di intesa non si mantiene mai. Ma lei che è anche un difensore autonomia, lei lo sa che abbiamo un laboratorio della Maria Militare statunitense a Catania? Ne abbiamo uno nella base americana e ne stanno aprendo un altro molto, ma molto vicino a Palermo. Io mi auguro che quello che io abbia sentito, non dico che... A Catania c'è il Namurru 3. Sì, ho capito. Però è grave quello che sta per succedere perché è chiaro che statisticamente parlando, e parlo a livello statistico, dove insiste un laboratorio, dopo circa quattro anni, per un raggio di 50 km c'è una comparsa esponenziale di tumori, di leucemia e quindi insomma... Si gioca a fare il demiurgo? Si gioca con materie pericolose? Si, si gioca con materie pericolose, però si gioca anche con la vita umana, per cui io mi auguro che non sia questo. Dove lo apriranno questo laboratorio? Io vorrei non aprirne più e chiuderli tu. Cioè, lei dove sa che lo stanno per aprire? Vorrei evitare di dare così... Vabbè, però non è che può fare l'omercoso. Sì, ho capito, però dico, non vorrei allarmare la gente del luogo perché ancora non è aperto e mi auguro che l'apertura di questo laboratorio incontri tutta una serie di ostacoli, per il bene della collettività ovviamente, non per il bene di... Allora io cercherò di avere una risposta tra le righe, ma stiamo parlando di strutture che già sono operative e si occupano di altre cose che dovrebbero estendere? No, 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 no. Una struttura ex nome. No, fortunatamente no. Comunque vorrei tranquillizzare i telespettatori dicendo che... Vabbè, però con un libro di questo lei fa tutto tranne che tranquillizzarci perché si mette nei panni di chi ha fatto le tre dosi. Io come mi dovrei sentire adesso? Ora io lo spiego. All'interno del libro c'è un capitolo dell'ingegner Trambosti che spiega che i lotti non sono tutti uguali. Partono dal 0% che è placebo puro, quindi acqua fisiologica, fino all'88% che sarebbe il massimo del principio attivo che si può trovare all'interno di una fiala. È ovvio che più alta è la percentuale di principio attivo della fiala, più alte sono le probabilità di insorgere. Oggi sono molto fastidioso. Lei mi sta dicendo che c'è uno studio che dimostra che molte fialette di vaccino, ho presunto tale vaccino, quello che fosse, c'è l'acqua distillata, placebo. Ci sono una cinquantina di studi, non uno solo. Se lei mi fa fine di parlare, io glielo spiego. Allora, il più accreditato studio, ovviamente, si trova in questo libro dove l'ingegnere Trambosti spiega che dallo 0 fino all'88% troviamo il principio attivo. È chiaro che più alto è il principio attivo all'interno di questa fiala, più alte sono le probabilità di insorgere di reazioni avverse e quindi le cosiddette morti improvvise, purtroppo. ovviamente nessuno sa qual è quella dello 0%, del 5%, del 30%, perché sono state distribuite a caso, ovviamente, nel territorio nazionale. Quindi questo non lo sa nessuno. Ma scusi, il governo che ha questi dati non dovrebbe fare causa alla casa produttrice? Cioè è stata venduta a fior di miliardi, questa sostanza era acqua distillata? Non è ancora chiara la figura del criminologo. Il criminologo non cerca responsabilità. E non faccia il criminologo qui, faccia l'autore di un libro che può diventare un best seller. Il primo già lo è diventato, il secondo non lo so. Però dico, sono sempre un criminologo e io presento i dati. Non sono colui che cerca responsabilità o responsabili. Stavo finendo di dire che il libro si divide in quattro parti. La prima è l'inizio di un'analisi criminologica. La seconda parte è l'analisi scientifica di uno dei vaccini, quindi del Pfizer. La terza parte è scritta dall'avvocato Antonietta Veneziano sull'elemento soggettivo del reato. La quarta parte è dell'ingegner Trambusti, che ha messo in correlazione tutta una serie di dati e ci ha spiegato se hanno funzionato o se non hanno funzionato tutta una serie di restrizioni. Quindi le zone a colori, il distanziamento, le mascherine. E statisticamente ci ha portato a paragone esperimenti fatti qui in Italia, in Francia, in America, dicendoci per fare un esempio che la mascherina è servita a zero in Italia, in Svezia, in America, in Francia, perché la mascherina non ferma nulla. Anche la versione ufficiale, prima un giorno la mascherina serve, un giorno non serve, metti la mascherina, leva la mascherina, in autobus metti la mascherina, nel treno non metti la mascherina. Quindi quella era proprio una buffonata di Stato, questa me la assumo la responsabilità. E infatti i dati servono per capire. Questo libro lascia a ognuno la libertà di capire effettivamente che cosa è successo realmente, perché ovviamente c'è il contributo di quattro persone, quattro professionisti, di quattro scienze diverse, che però vanno tutti nella stessa direzione. Lo stesso libro lo abbiamo in Italia, lo stesso libro è stato tradotto in inglese, Criminal States, lo stesso libro è stato tradotto in Spagna, è stato criminal e già è in pubblicazione su Amazon, e lo stesso libro sarà prodotto in Francia entro questa settimana. Ah, ci picchia, velocissimi. Ma d'altro è stata una pandemia globale e ci vuole una risposta criminologica globale, no? Abbiamo avuto fortunatamente tantissime richieste per gli studi contenuti nel libro e allora abbiamo deciso di tradurre il libro in quattro lingue. È previsto anche il tedesco, ma fra un paio di settimane. Ultima domanda, prima che si concluda il tempo a nostra disposizione. Immagino di capire dalla sua, come dire, precisione, che lei abbia negato, come dire, l'accesso al suo corpo al vaccino, no? Io fortunatamente mi ritengo di essere un essere libero, per cui nonostante le costruzioni… Come non si è sentito in quel periodo un po' discriminato? Sa, molte persone sono state ricattate e questo è stato una cosa profondamente ingiusta, che non dovrebbe accadere in nessuno Stato, né tra quelli che si ritengono i più democratici, e poi non lo sono come il nostro, dove ancora ci sono le censure nei giornali, le censure nei social, le censure perché appena uno scrive qualcosa viene subito bannato, viene subito bloccato il profilo e non dovrebbero neanche… le persone, diciamo, non dovrebbero neanche avere un'idea senza avere però la cognizione di ciò che si sta parlando. Per esempio io ricordavo che durante la pandemia molti vaccinati ce l'avevano con i cosiddetti no-vax, i no-vax altri non sono che persone che… In un periodo ci furono delle cose… Allucinanti. Chi non è vaccinato non ha diritto alle cure mediche, ci sono vaccinati proprio alla follia collettiva. Alla follia collettiva. Lo puoi ripetere? Ma c'era chi sosteneva la tesi che i non vaccinati non avevano diritto all'accesso alle cure mediche. Alla fine come sta finendo? Che i non vaccinati stanno pagando per i vaccinati. Con questo… Anche questo non generalizzerai. Dico, con questo… Anche perché non si sa chi è veramente vaccinato o non vaccinato. Insomma, in realtà… Il placebo… Ognuno ha dei amici che sono stati vaccinati e ognuno sa effettivamente che cosa è successo. Ognuno lascia le conclusioni da trarre. Quindi lasciamo il nostro pubblico con questo grande punto interrogativo. Chi vivrà vedrà e soprattutto, vabbè, insomma, cercate di trovare questo libro se volete informazioni sullo status criminale, l'analisi criminale della gestione Covid-19. Questo libro, edito dalla libreria Salvemini, si può ordinare online su Amazon? Si può ordinare… Poi verrà distribuito pure nelle librerie. No, su Amazon, questo italiano… Questo no. La versione italiana no. Questo libro si può trovare o presso la libreria IPSA di Palermo, oppure al giardino del libro online, oppure presso la libreria Salvemini di Firenze. Perfetto. Quindi diciamo già iniziamo, come dire, a fare anche un po' di promozione per distribuire qualche pillola di informazioni un po' più precisa. Fortunatamente questo libro non ha bisogno di promozione perché fino ad oggi, come il primo, è diventato… Ma lei dice sempre no. Questo no, questo no. E questa è, diciamo… Non c'è del male a fare la promozione quando si fa promozione per un libro. Il libro è una cosa sacra, no? È una roba molto importante. Per chiarità. Va bene. Io ringrazio Umberto Mendola, criminologo forense, per averci dato la possibilità di presentare quasi in anteprima la sua ultima opera. Sicuramente, siccome, diciamo, ricordo a tutti che Umberto Mendola è anche molto impegnato nella difesa dello statuto autonomista della regione siciliana, sicuramente non mancherà occasione di farci una chiacchierata ancora più approfondita sui temi, come dire, della politica. Io ringrazio Umberto Mendola e gli chiedo anche, scusa se l'ho interrotto, parecchie volte, ma l'argomento era talmente interessante che suscitava le domande. Prometto che avremo modo di approfondire ancora di più questo tema, perché credo che ci saranno sviluppi. Grazie. Grazie quindi del tempo che ci ha dedicato. Ricordo a tutti, insomma, status criminale è l'ultimo saggio di Umberto Mendola, criminologo forense. Che dire? Vediamo che succede, vediamo che sviluppi ci saranno. Dottor Mendola, vediamo, aspettiamo con lei i sviluppi anche sulla base dell'effetto che farà questo libro, che è distribuito, come ci ha detto già negli Stati Uniti, in Francia, in Grecia, se non sbaglio, in Spagna. No, in Grecia no. In Grecia no. In Spagna, sì, perfetto. Va bene, grazie ancora e arrivederci ai nostri telespettatori e web spettatori di Talk Sicilia. Buona serata.